Grazie Prego Allora benissimo Quali anni hai? 21 Ti chiami Matteo vero? Cosa fare la vita? Studio L'università? Geologia E come vedi il tuo futuro nel mondo dell'università e un domani del lavoro? Roseo Via, seriamente Vado alle palle Vado all'estero Perché cosa non ti piace del sistema universitario italiano? Perché mi calma viaggiare Ho capito Perché hai aspettato i laurearti per viaggiare? Cosa? Perché hai aspettato i laurearti per viaggiare? Perché se lo posso fare anche per lavoro è il più provabile Ho capito E senti, in vista delle prossime elezioni amministrative Cosa ti senti di chiedere al Partito Democratico per il tuo comune? Una delle priorità che dovrebbero essere importanti Un suggerimento, un consiglio Ecco appunto, un suggerimento Che ti devo dire? Che ne so? Una maggiore attenzione ai giovani È un problema secondo te? Sì E in che modo si può dare maggiore attenzione ai giovani? Eh Coinvolgendogli nelle scelte sui temi che li riguardano magari Esatto Bene E al Partito Democratico cosa ti sentiresti di dirgli? Ma di dare più attenzione ai giovani E in che modo? Favorendo un ricambio Esatto Bene, grazie mille Ma di niente Grazie a tutti Grazie a tutti